E' finito in questo momento il posticipo della serata, la Lazio che perde in casa e la Juventus che come al solito riesce a spuntarla nonostante fosse in una serata non proprio positiva, devo dire che la Lazio ha fatto una gran partita ma anche facendo una grande partita, questo non basta per battere comunque la Juventus, i campioni d'Italia. E' quindi la Juventus che allunga ulteriormente sul Napoli approfitta di questa situazione, ormai c'è poco da dire anche alla Juventus perché la Lazio ha dominato questa partita per gran parte soprattutto nel primo tempo, però anche nel secondo comunque si è resa molto pericolosa, ma la Juventus che comunque Allegri azzecca il cambio, fa entrare Cancelo che poi alla fine si rileva determinante per questa partita perché non solo segna ma poi procura anche il rigore, procura nel senso che è stato ingenuo comunque il giocatore della Lazio che l'ha proprio trattenuto e quindi il rigore è comunque netto e indiscutibile. Io l'avevo detto durante la partita che il gol sbagliato da Immobile sarebbe stato determinante perché sul 1-0 poteva portarsi sul 2-0 la Lazio e già lì sarebbe stata comunque un'altra storia. Stasera Immobile c'è sulla coscienza sicuramente quel tiro sbagliato perché avrebbe veramente secondo me messo le mani sulla partita la Lazio con quel gol. Però diciamo che comunque per noi sandoriani questo è un risultato positivo perché in questo momento la Lazio rimane ferma dov'è, non ci supera e quindi noi rimaniamo fermi al sesto posto. E quindi diciamo che praticamente di questa giornata oltre alla solita Juventus che comunque vince, le altre che vincono sono proprio di quel gruppo lì, sono Sampdoria, Fiorentina e poi Torino. Torino che tra l'altro batte l'Inter, un Inter stasera veramente pietosa, io uso questo termine, pietosa, per non parlare del loro capitano che comunque ha fatto ben poco. Ma credo che comunque un po' tutti quanti stasera abbiano fatto poco, il Torino che ha meritato la vittoria e quindi si rilancia verso la zona Europa. Quindi c'è un bel mucchione lì nel giro di 4-5 punti, c'è veramente. Adesso vedremo la prossima giornata sicuramente a noi sfavorevole perché comunque andiamo ad affrontare il Napoli in casa loro. Partita difficilissima e staremo a vedere. Comunque il calcio è bello perché è strano, quindi tutto può succedere. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e a voi so Giampi.